Sono rimasto veramente soddisfatto di questa operazione sanitaria relativa alla vaccinazione, ma quello che mi ha colpito di più è stata la competenza e la gentilezza di tutti gli operatori. La campagna vaccinale continua con gli ultraottantenni. Giancarlo Gentilini, classe 29, è stato vaccinato. Tutto è andato bene e secondo programma, anche se un sassolino dalla scarpa, l'ex sindaco di Treviso, vuole toglierselo nei confronti dei suoi coetanei, troppo ansiosi forse di farsi somministrare il siero. Però una cosa devo dire che non mi è piaciuta. C'è stata troppa una ressa al di fuori del locale. E sapete perché? Perché tantissimi si sono presentati un'ora prima dell'appuntamento e quindi si è ingenerata un po' di confusione. E non hanno certamente ubbidito a quello che diceva Benassi, trovatevi alcuni minuti prima del tempo per non intracciare il traffico. Infine Gentilini si rivolge a tutti per un appello alla vaccinazione, per proteggere se stessi e le persone che amiamo di più. Ricordatevi che l'unica ancora di salvezza è la vaccinazione. Quindi tutto il popolo italiano deve vaccinarsi, costi quello che costi.